simpatico tapiro d'oro a urbano cairo consegnato da staffelli per via di che cosa perché ci sarebbero stati degli orecchini di una nota marca di uscio che sarebbero stati sfoggiati dalla bella brava e simpatica lilly gruber nel programma televisivo otto e mezzo che lei stessa va a condurre e quindi il buon staffelli avrebbe fatto una proposta a cairo ossia di trasformare il programma in questione in una sorta di varietà in piena regola per riuscire ad avere dei profitti economici anche da quelli che sono i prodotti che potrebbero essere sfoggiati va bene poi però diciamo che cairo accenta ben volentieri il tapiro in questione infatti è solidente nel momento in cui staffelli gli va a consegnare il relativo tapiro d'oro che ovviamente accetta ben volentieri va bene vi ringrazio per l'ascolto e per la visione il servizio è dell'altro ieri precisamente del 15 di maggio 2023 va bene iscrivetevi al canale mi raccomando che è narratore italiano commentatevi fatemi sapere cosa ne pensate un caro salutone a voi al prossimo vivenza a tutti